Ehi! 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 Sto fatto? Andate che ho sfacrimato! Tutto finito, inviato! Fa giro! Ehi! Ehi! Mi sa di... A terra quello dell'elicottero! E' la! C'è un'altra sotto! C'è un'altra! A terra! Porco, ma me le sgami tutte! Uno fatto! A terra quello della finestra! E' liberta... E' liberta... Non ho stato individuato! A terra! Cosa dice? Ha fatto... Tutte, tutte quelle sgami! Tutte! Sotto! Fatto! Un altro! Un altro! Un altro! 19 metri! C'è uno! Qua, qua! Uno è entrato! Raga, qua! Raga, continua a rientrare questi! Dobbiamo fare... Ultimare questi! Dobbiamo fare l'ultimo wipe! Qua, qua, qua! Oh la la! Uno ancora è qua! E' su, è la! Versaglio confermato! 27 metri! A terra! Boma! Versaglio eliminato! Io non so quante kill mi hai tolto! Allora, l'ho fatta con cecchino questa ragazza! Soldato nemico in arrivo! 44 metri di qua! Ah, qua da me! Qua da me! Versaglio taglia! Contra segnato! Ok! A terra! A terra! Questo qua! Tiene uno davanti a destra! Va dentro! Da Marco! Ok, ho fatto tanto di metterne all'altra parte! Tiene uno davanti a Marco! Salta! C'è dai alle spalle! Marco arriva alle spalle! Che arriva alle spalle! Raga, ora muoio! Dovete... Dovete... Vai, 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 vai! Sono il gas! Sono il gas! Guardali, guardali! Guardali! Più sinistra! Più sinistra sono! Grazie! E dai eh! Hola!